Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero che stiate tutti bene. Io diciamo che sto cominciando a dare un po' i numeri perché è la quarta volta che provo a registrare questa puntata e è andata persa la puntata precedente, quindi ci siamo persi l'arrivo dei pangolini alla fine, che sono già tanti e stanno crescendo, si sono anche riprodotti già appunto perché ne avevo presi semplicemente due. Ecco, un pangolino cinese sta per accoppiarsi con un consanguini, vabbè lo lasciamo fare perché... Dov'è l'elevata quantità di spazzatura? Andiamo un attimo nelle aree di lavoro. Perché mi sa che questo pannello non l'ho assegnato. Comunque, dicevo, siamo qui con i nostri pangolini tutti arrivati, i nostri macachi che sono un bel po', mi sa, e adesso ne daremo magari via qualcuno in natura. I nostri elefanti sono cresciuti, si sono riprodotti e sto pensando di allargare il recinto magari più in largo perché appunto ho visto che possono essere fino ai 30 esemplari, quindi ce ne starebbero veramente tanti. Perciò, nel frattempo ovviamente le cose sono andate avanti, le attrazioni di trasporto sono completate, quindi i nostri meccanici rimettiamo a fare il tema Africa, il tema classico europeo e il tema Sud America. Bene, nel frattempo si è fatta sera, abbiamo 23.000 dollari, 1.053 visitatori, perciò insomma siamo messi anche abbastanza bene. Bene, appena arriverà giorno arriveremo con i nuovi animali, la ricerca è stata completata. Abbiamo anche i due animali da mostra, lo scorpione gigante della foresta e la tartaruga del dorso di diamante. E per adesso direi che siamo a posto. Mandiamo avanti le ricerche nel frattempo. Qui ho fatto una zona di souvenir e di negozio di bibite e cibo. Non mi piace molto come sono venuti i sentieri in questa parte qui, perciò magari li metterò a posto, sempre se questa benedetta registrazione riuscirà. Ci spero tanto perché ho avuto dei problemi, problemi su problemi e purtroppo di cose o vanno perse o se non sto attenta laggano, laggano di continuo. Ah, a proposito di lag, mi vengono sempre in mente le dirette e dalla prossima settimana ho intenzione di cominciare le dirette su YouTube e su Twitch. Mi raccomando se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, attivate la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti, in modo così da sapere anche se ci saranno le live pronti ad attendervi. In le nostre tigri abbiamo il tigrotto che direi sia una lei, sì, che ormai è già anche grandicello. Qui dobbiamo assolutamente chiamare il custode e il meccanico chiamiamolo, giusto così per divertirci un po'. Vediamo qui come siamo messi, no, qui siamo messi bene, però chiamiamo il custode comunque. Qui dai nostri elefantoni chiamiamo il custode e là dai nostri pangolini chiamiamo anche il meccanico. Bene, qui davanti appunto non saprei che cosa fare, probabilmente ho pensato a fare del terreno rialzato così va un po' a coprire questa zona dove ci sono tutte le postazioni dello staff e poi magari potremmo farci un altro piccolo habitat per qualcuno che ci possa stare, ecco. Perché è molto difficile distribuirsi nello spazio, sinceramente, con una sorta di spazio così immenso. Bene, io intanto direi che nel frattempo facciamo il terreno qui con la nostra solita pozza d'acqua, buca per l'acqua. Ed ecco qui, nell'anno 35 ovviamente anche qualcuno se ne va, giustamente doveva essere un pangolino cinese che sono gli ultimi arrivati. I macacchi invece sono sempre maturi e non fanno altro che accoppiarsi, anzi adesso andiamo subito a vedere se possiamo darne qualcuno in natura. Aiko, no i maschi no, Shijeko e Ayumi, anche Amaia. Liberiamoli in natura. Benissimo, anche la ricerca sulla tartaruga è terminata. Ho schillato un po' i nostri veterinari e i nostri meccanici in modo appunto da poter andare avanti un po' più in fretta. Sicuramente il live sarebbe tutto più divertente, ecco, e interattivo. Quindi appunto cercate di non mancare nel caso, eh. Ma viene il custode anche qui a pulire perché, cioè... Eccoci qua. Adesso facciamo arrivare i nostri due animalozzi che abbiamo nel centro di scambio. Nell'habitat. Eccoci qui con l'arrivo dei nostri rinoceronti indiani. Magri, magri, belli, belli. Benissimo. Allora, mettiamo un attimo pause e soprattutto prepariamo prima l'habitat, se no arrivano i manifestanti. Ok, allora, per quanto riguarda l'habitat direi che abbiamo più o meno messo tutto e sono molto simili agli elefanti. Sì, grazie al cielo. Invece andiamo subito a vedere l'ambiente. Vabbè, dobbiamo mettere in play perché se no non ce l'ho da buono. Erba lunga. Ok, perfetto. I nostri rinoceronti stanno bene. Dunque, andiamo solo a vedere se sono giusto arrivati degli animali, cioè degli elefanti. No, non c'è nessuno. Ok, anche qui la ricerca veterinaria è completata. Abbiamo Shelby, che io chiamo Shelby, e la mettiamo subito a fare la ricerca sul rinoceronte. Dunque, siccome sono quasi sicura che tutto sia più o meno venuto come deve venire per essere poi pubblicato, spero entro la fine di questa settimana, se non divento matta un'altra volta, direi che per adesso noi ci lasciamo così. Nel frattempo abbiamo l'arrivo di Agastia, che mi sa più di nome femminile, comunque è lo stesso, e Saumia, che sono i nostri rinoceronti grandoni. Ed è già meglio chiamare un custode e un meccanico. Ok, i nostri soldi continuano a salire, i nostri visitatori sono 1182. Vediamo un po' come sono i biglietti. Sono un po' bassini, forse. Mettiamo un po' 18 e facciamo 12 per i bambini. Il pannello solare 2 deve essere riparato. Anche il pannello solare 1. C'è qualcos'altro da riparare? Vediamo un po'. La nostra tigretta... Aia! Dobbiamo darne via una. Tigre. Del nostre due femmine diamo via Ravenna, la chiamo io. E la liberiamo in natura. Perfetto. Vabbè, potreste benissimo aspettarvi qualche nuovo elefantuccio nella prossima puntata. Questo sappiatelo. Di certo non arriveranno nuovi macacchi da parte mia, nel senso che se succederà sarà perché si accopieranno loro. Comunque, la cosa importante di questa era il vedere i nostri bei rinocerontoni. Mi capita sempre di fare l'inquadratura... Ecco, belli, nel fango. No, ecco, magari non così. Girati. Ecco, girati, brava. Che faccia? Si scrocchiava al collo? Sanno molto, molto, molto di dinosauri, eh. No, questo non doveva capitare. Se io volessi fare una foto a lui, devo farla con quello che hai prodotto tu? No, giustamente. Adesso la stai facendo tu, però. Va bene, ho capito che non vi va di farvi fotografare. Dormiamocela. Ok. Sperando che appunto tutto sia riuscito al meglio, io vi ringrazio per essere stati con me. Nella prossima puntata ci sarà un habitat di sicuro pronto per ricevere altri due ospiti. Nel frattempo avremo ingrandito quello degli elefanti, magari. Spero di riuscire appunto nel tutto. Io spero che vi siate divertiti. E se così lasciate un like al video. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e non perdetevi gli episodi precedenti. Sappiate che dalla settimana prossima vorrei appunto provare ad andare in live e magari rendere tutto questo un po' più interattivo. Vi ringrazio ancora per essere stati con me e vi auguro buona serata. Ciao ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.